Ho detto delle cose private di quelle che hai fatto e quelle che hai fatto, non so se è la verità. A me le ho detto anche che tu hai fatto fare i chi buccaccielli, io non mi sono permesso di fare video e di dirlo, perché io rispetto per farti capire che io non vado a raccontare tutto se non so la verità, perché non so se tu li fai o non li fai, ma me l'hanno detto a me. Posso rispondere? Vai, amo, vai. No, è per farti capire a te che tante cose mi dicono, io non faccio i video perché ho certe situazioni, non so se la vedete, non le dico. No, ma non voglio scoprire la messa, perché ascolto, posso parlare dopo che ascolto, però sono un po' nervoso, chiedo scusa. No, non ti preoccupare, amo, vai. Allora, io voglio fare i buccaccielli, mi strabraccemo, non i pioli, voglio fare i buccaccielli. Perché sei qui, pollo? Mamma mia, scusami. Io ho scusato la chiara casa, non li sono dentro. Ma voglio dire, io sono vedova, sono una donna sola. Stasera voglio scendere, voglio neppi un caffè e gottino, un bagno tu e capisci? Perché i bamboli è stato realista. Io voglio fare tutto il buccacciello che voglio. I guai sono degli altri che tenono il marito a casa. Tenono, è morto sotto l'olietta, neanche le schede traccindarmate i bamboli, perché hanno fatto proprio il tomborazione sotto l'olietta. L'altro scopo. L'altro scopo.